Primo passo a Montesilvano per l'approvazione del bilancio di previsione 2020. Il documento contabile infatti ha avuto l'ok da parte della Giunta, ora però dovrà passare all'esame dell'Aula ed in consiglio i numeri per l'esecutivo guidato dal sindaco De Martinis sono piuttosto esigui. L'assessore Comardi però sottolinea l'importanza di questo primo atto. In Giunta si è proceduto con l'approvazione ieri pomeriggio del bilancio di previsione 2020 che prevede delle importanti novità, prevede delle importanti azioni, importanti provvedimenti. Su tutti abbiamo il completamento della scuola di Viadda, il completamento della scuola di Via Olona. Abbiamo inserito dei fondi per implementare la pubblica illuminazione, quindi dovremo estendere delle linee. Abbiamo inserito 425.000 euro, sono fondi regionali, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Ovviamente, come tutti i comuni in Italia, anche noi abbiamo subito una riduzione delle entrate, ma nonostante ciò noi abbiamo mantenuto l'impianto solido e stabile, similare a quello dell'anno scorso. Per cui abbiamo mantenuto inalterate le tariffe, abbiamo mantenuto inalterati altri servizi, per esempio gli stanziamenti del Verde sono rimasti intoccati rispetto all'anno scorso. Quindi abbiamo fatto degli sforzi per poter mantenere una stabilità temporale, quindi rispetto all'anno scorso, anche quest'anno per quanto riguarda i fondi, per quanto riguarda il bilancio. Una nota che mi preme sottolineare, perché è importante, abbiamo inserito dei fondi per il PEBA, che prevede l'abbattimento e sarebbe il piano per l'abbattimento e le barriere architettoniche. Montesilvano ne era sprovvista, noi non abbiamo mai avuto questo strumento, però pensiamo che questo tipo di piano ci potrà far fare un salto qualitativo importante. Tra 15 giorni ci aspetta un importante appuntamento, un appuntamento cruciale per la vita amministrativa, perché il bilancio di previsione approderà sui banchi del Consiglio Comunale. Noi dialogheremo ovviamente con tutte le forze politiche, sia maggioranza che opposizione, e ci auguriamo che ogni singolo consigliere voglia portare il proprio contributo affinché questo bilancio possa essere positivo, efficace, efficiente per la città di Montesilvano e per i suoi cittadini.